Ciao a tutti ragazzi, io sono ErikaXXD e oggi vi vorrò vedere un po' l'arredamento di casa mia, ok? Allora, iniziamo subito Facendo guardare questa straccia Guardate Questa qua, c'è la torcigliata, poi c'è una piglia, no a caso, vabbè E poi qua, è molto semplice Poi pure qua, è molto semplice, una straccia qua nella televisione Che finisce qua Un cagnolino così a casaccio Poi, un'altra straccia gialla, però non solo una Guardate Quante? E se avete notato? No E questa qua però, la stessa però con la stendita L'anvero Vedete? Molto bello Poi Questo E' la lucina La 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 Questa Ed io ce l'ho qua Poi Andiamo per di qua Cacciando questo Siamo Siamo Scusate che non ho fatto vendendo un attimo le cose Questo Poi Questo Aspettate Beh, questo è un'altra cosa Però sempre la stendita Poi Eppure la guambe Poi la cosa che a me piace di più è proprio questo Questo qua, vedete la barbetta Proprio Poi Uno Slashone Poi fuori c'è Un coso di Natale Che non vi posso far vedere Però Vabbè Questo video è un po' loioso Questo video è un po' loioso Perché Non è che ho fatto vedere tanto Però Ho fatto vedere le mie decorazioni Quindi Ciao Ciao